Quando sentì la voce del bimbo che chiamava la domestica, trasalì. Mi stupì soprattutto di non provare orrore al pensiero di essermi raffigurata tutto ciò. Sentì aprire la porta del giardino. Mio marito entrò, era il meriggio. Si avvicinò, mi parve che mi guardasse e torsi il viso. Mi occupai del bimbo per tutto il tempo del pasto. Poi, soli un momento, mi rivolsi a lui. Sentivo la mia faccia irrigidirsi. Dovrò chiudere la porta della mia stanza. Quegli diede un pugno sulla tavola, poi fece alcune volte il giro per la sala e si sedette fremendo. Fa quello che vuoi. Si rialzò di scatto e uscì nel giardino. Ma subito rientrò vomitando un cumulo di parole infami. China, stringendomi il bimbo accanto, continuavo macchinalmente a segnare col dito le linee del libro che leggeva. Interruppi le bestemmie guardandolo fermamente in faccia. Gli dissi che c'era un solo rimedio, quello che avevo indicato un anno prima, separarci. Quegli si era fatto più livido. Me ne andassi, me ne andassi, avrebbe ben trovato un'altra femmina al mio posto. Calma, proseguì. Sia pure, ma non in presenza di mio figlio. Lo porterò con me, aspetterò in casa di mio padre che la legge regoli il nuovo stato di cose. Egli era accanto alla vetrata del giardino. Alzò un braccio, poi lo lasciò ricadere. Il suo volto era gonfio e livido. Il figlio? Proruppe. Provati! La voce s'era elevata. Doveva passare le portiere e giungere in strada. Il corpicciuolo infantile accanto a me, rascosso da un tremito, si avvinghiava al mio tra i singhiozzi repressi. E tu, alzati! Vieni con me in fabbrica, su! E subito la vocina, tremula, si oppose. Ho da fare il compito. I puri occhi turchini si incontrarono con quelli del padre, torbidi, spaventosi. Un momento di silenzio passò, immobile. Non percepivo più che la pressione di una piccola mano un po' umida. Sentì sbattere l'uscio dei passi sulla ghiaia allontanarsi. Soli in casa, nel pomeriggio fosco, il bambino mi asciugava le lacrime lente col suo gesto accorato e mi chiedeva che cosa voleva, che cosa aveva papà, perché grida così, perché ti fa sempre piangere, mamma? Devo andarmene, figliolo mio. Vedi? Devo partire. Che cosa balbettavo? Egli mi pose le mani sulle spalle, con tutta la violenza del suo piccolo essere intumulto. Mamma, mamma, e io vengo con te, vero? Dimmi, dimmi, non voglio restare qui col papà, non voglio lasciarti, non voglio, mamma, mi porti via, di, via! E mi cadde sul petto, rompendo in un pianto che mi penetrò nella carne, un pianto di uomo e di neonato insieme, che pareva riassumere tutto il dolore del mondo. Figliuolo, figliuolo! Ti strinsi, piansi con te, così disperatamente, sentendomi fondere, teco, come se ti raccogliessi nel mio grembo e ti lanciassi una seconda volta nella vita in uno spasimo infinito di sofferenze e di gioia, comprendendo la sovranità formidabile del legame nostro, eterno. scrissi a mio padre per prevenirlo. Poi riapri il libro che già avevo consultato a Roma l'anno avanti, tristamente. Chiaro e semplice il codice nei suoi versetti, io lo conoscevo, ma solo quando pensai a me stessa sentii che ero io, l'incatenata, che proprio su di me la legge era come la porta di un carcere, ne sentii tutta la nostruosità. È possibile! La legge diceva che io non esistevo, non esistevo se non per essere defraudata di tutto quanto fosse mio, i miei beni, il mio lavoro, mio figlio. Giorni di tensione spaventevole in cui pur non osando ancora pigliarmi all'unica risoluzione, concentravo tutte le mie forze. Oh, non per difendermi dalla rabbia del mio aguzzino, ma per domare il mio spasimo materno al pensiero orrendo di poter essere priva di tutto il sorriso della mia vita. In alcune ore non sentivo in me neppure più alcun impulso né di rivolta né di rassegnazione, soltanto ad ogni tratto poche parole. Tu non ami e non sei amata, siete due strani, non c'è che un dovere. Poi tu l'hai visto questo dovere e ancora o adesso o mai più. Era una voce implacabile. A Roma un anno avanti la fugace ribellione era stata più che altro un impeto istintivo che avevo sorpreso in me stessa, ma adesso, dopo l'annata di tormentosa e inflessibile meditazione, dopo la visione raccapricciante dell'abisso, era un comando cui dovevo obbedire o morire. Il caso, il destino, forse l'oscura logica delle cose aveva voluto che finalmente io fossi costretta a mostrare all'uomo di cui ero schiava tutto il mio orrore per il suo abbraccio. Dopo dieci anni. Miseria. Lo strappo furibondo alla catena non era venuto nelle lunghe ore in cui essa mi dilaniava l'anima. La carne era stata più ribelle, aveva urlato, si era svincolata, ad essa dovevo la mia liberazione. Partire. Partire per sempre. Non ricadere mai più nella menzogna. Per mio figlio, più ancora che per me. Soffrire tutto. La sua lontananza e il suo oblio. Morire, ma non provare mai il disgusto di me stessa. Non mentire al fanciullo crescendolo io nel rispetto del mio disonore. Mio figlio, ma come poteva l'innocente venire condannato? Come poteva la legge volere che il povero bimbo rimanesse legato al padre? Che fosse impedito a me di proteggerlo, di educarlo, di sviluppare in lui tutto ciò di cui avevo già formato la sua sostanza? Questo era l'atroce dilemma. Se io partivo, egli sarebbe stato orfano, poiché certo mi verrebbe strappato. Se restavo, un esempio avvilente per tutta la vita, sarebbe cresciuto anche lui tra il delitto e la pazzia. Mi veniva accanto il bimbo, mi accarezzava le tempie su cui principiavano alcuni capelli ad incanutire. Ed il grido del mio sangue trionfava per qualche momento. Era mia quella creatura. Io la volevo contro tutto. Volevo osservarmi i suoi baci a costo della sua e della mia salvezza. Non potevo, non potevo pensare che egli sarebbe stato sviluppato, trasformato, senza che i miei occhi si riconfortassero del suo fiorire e che la sua puerizia, la sua gioventù avrebbero sorriso ad altri e mai più a me, forse. Una volta gli chiesi, piuttosto che restare qui solo col papà andresti in collegio? Io stessa non avevo mai accolta l'idea della reclusione per la creaturina, ma quando bisognasse scegliere, il poverino disse di sì col capo. Impallidiva spesso nel corso della giornata al suono della mia voce. Mi interrogava, che cosa ti scrive il nonno? Mi lascerà venire con te il papà a Milano? Dubitava anche egli ora, ma quando mi vedeva uscire smarrita dalle dispute col padre o mi sorprendeva con lo sguardo fisso nel vuoto, dimenticava la pena sua per farmi coraggio, per dirmi che lui mi voleva tanto bene, che per lui sarei sempre esistita, io sola, sempre, sempre. Mi ricorderai sempre, vero? Se morissi, se dovessi lasciarti. Sì. Non era assente l'anima sua, mentre affermava di sì tra le lacrime, non cercava in un misterioso labirinto il motivo del nostro dramma, faceva a se stesso una promessa che, sepolta un giorno, risorgerebbe e lo illuminerebbe. Quanto tempo in tale alternativa di lotta e di accasciamento? Due settimane, forse. In paese qualcosa era trapelato. Indovinai che si credeva che io mi ribellassi per la malattia del marito, la quale pure era conosciuta e commentata. Era venuta la madre di lui, piangendo. Povera donna, non sapete quante altre sono nel caso vostro. La tale, la tal'altra, e mia cognata. Eh, si sa, debolezze, fu quando era soldato. Ella, appunto, trattenne una sera il braccio del fratello, in preda parossismo. Vuoi comprometterti? Non domanda che questo. Lei. Ore di dibattito incoerente, esasperante. Ero esausta. Avrei voluto piangere sommessamente come una bimba, fino a chiudere gli occhi per sempre. Non resistevo che per una forza segreta. Chiedevo di essere lasciata partire, di andare a consultare mio padre, di trovare un po' di requie. Lontani, entrambi. Forse avremmo visto le cose sotto un punto di vista nuovo. Essi, tutti d'accordo, negavano, negavano. Tratto, tratto mi si gettavano in viso l'esempio di mio padre, la sventura di mia madre, la mia mancanza di religione, le dicerie del passato. Forse facevo paura, come in quei giorni lontani che si invocavano con acra e malignità. In certi istanti sorprendevo perfino in fondo agli occhi di mio marito come una vaga espressione di stupore, quasi di rispetto, ed era dopo che io avevo parlato nel delirio della mia certezza interiore, trasportata oltre la vita. Allora la speranza mi balenava, mi riafferrava. Ah, se quell'uomo non mi fosse vissuto inutilmente accanto dieci anni! Se fosse capace di non far scontare al figlio il proprio danno! Non mi scongiurava di restare, anche solo per il bambino, per la sua educazione. Forse, quando avesse compreso l'impossibilità dell'esistenza in comune, avrebbe ceduto per amore di lui. Egli era ancora giovine, avrebbe potuto rifarsi una vita. Se il perdermi ora gli procurava veramente dolore, questo poteva essergli benefico, nobilitarlo. Finalmente, una sera, egli accondiscesa che io andassi a Milano per qualche giorno, ma senza il figlio. Appunto quel giorno mio padre mi aveva scritto di nuovo, promettendo di interporsi del suo meglio per ottenermi il bambino, ed esortandomi intanto a partire anche sola per troncare il pericoloso conflitto. Quando ebbi deliberato, mio marito principiò a strallunare gli occhi, ad emettere gemiti inarticolati. E andai vicino? Lo scossi? Mi guardò trassognato. Era in preda ad un momentaneo smarrimento della ragione o simulava. Gli feci a forza trangugiare un liquore. Tornò lentamente in sé. Mi ringraziava. Non lasciarmi, non lasciarmi. Ti amo tanto, vedi? E mi afferrava le ginocchia. Continuò a scongiurare come in preda un leggero delirio. Tentavo parole di calma. Quando cercò di attirarmi a sé, mormorando frasi tronche. Come mi sentivo chiusa in me, estranea. E come era vile colui, vile e illuso nella sua forza d'uomo. Egli voleva trattenermi col suo desiderio. Rimasi rigida. Partirò stanotte, dissi. Di nuovo padrone di sé, non lasciando trasparire l'onta, egli annui. Sì, mi avrebbe lasciata partire, ma il bambino no. Il bambino restava con lui. E io da lontano avrei sentito che non potevo vivere senza la mia famiglia. E quando fossi tornata avremmo stabilito la nuova regola di esistenza. Andò nella sua stanza. Io non dormii. Seduta accanto al letto del bimbo, non pensavo, non sentivo più nulla. Attendevo, che cosa non so. La luce, il tepore, qualcosa che mi facesse sentirmi viva. Avevo tanto bisogno di forza. Oh, quel respiro tranquillo che le notti seguenti non avrei più ascoltato. Suonavano delle ore lontane. Trasalivo, ma come erano lente quelle ore. Forse mio padre mi avrebbe aiutata, anche con la violenza, a riavere il povero bimbo. L'avvenire mi si raffigurava pieno di enigmi, di agitazioni, di lotte. Nella mischia il viso di mio figlio mi appariva. Nella strada, ad uno svolto, vegli passava. Io mi sarei affacciata d'improvviso, di tratto in tratto, ed egli sarebbe sempre stato in attesa della mia apparizione. Intanto gli uomini mutano, mutano le leggi. Una persona che sia un'idea vivente, un'ossessione, può persuadere i più resti. E poi la morte. La morte. Un brivido come in una notte lontana. Ma io avevo superato il desiderio della morte anche di quella del mio nemico. Non l'odiavo. Egli non era più che una larva, confusa e cupa, che si ergeva insieme allo spettro della legge nella notte indecifrabile del destino. Accesi la lampada, la copri. Un fruscio. Mamma! Mi slanciai sul lettuccio, pose la mano nella mia e si riaddormì. Rimasi senza muovermi, quasi senza respiro. Mezzanotte. Mancavano tre ore. Le ginocchia mi si piegarono. Seduta sulla poltrona sentivo il freddo invadermi e raccoglievo tutto il mio calore, gli occhi chiusi, ritirando la mia mano per non agghiacciare la manina. Ed un tratto sentii tutte le mie forze fondersi. Mi assopivo. Ero tanto stanca. Non avrei potuto partire. Scoccarono le tre. Balzai in piedi. Mi posi il cappello e mi appressai all'uscio. Poi tornai al letticciuolo. Svegliai il bimbo. Vado. Gli dissi piano. E già allora. Sii buono. Sii buono. Voglimi bene. Io sarò sempre la tua mamma. E lo baciai senza poter versare una lacrima. Vacillando. E ascoltai la vocina sonolenta che diceva. Sii sempre bene. Manda il prendermi mamma a star con te. Si voltò verso il muro tranquillo. E allora sentii che non sarei tornata. Sentii che una forza fuori di me mi reggeva. E che andavo incontro al destino nuovo. E che tutto il dolore che mi attendeva non avrebbe superato quel dolore. Mi trovai sul treno senza sapere come vi fossi venuta. I primi urti del carrozzone si ripercossero in me. Come se qualcosa si strappasse dalla mia carne. E il senso dell'ineluttabile mi invase ancora più quando mi vidi portata lontano su quella forza ferrea. Avevo camminato come una sonnambula. Ora la coscienza di quanto avevo compiuto mi appariva. Oh la suprema. Suprema. Agonia. Come avevo potuto. Ora il mio bimbo. Mio figlio. Riaddormentato sotto il mio bacio. Mi avrebbe chiamata. Forse mi chiamava già. Pensai che l'avevo ingannato. Non avrei dovuto svegliarlo del tutto. Digli che non sarei mai più tornata e che non sapevo se gli avrebbe potuto raggiungermi presto. Forse mio marito era là. Ora. Presso il letticciuolo e mentiva a sua volta dicendogli che sarei tornata fra poco. E il bimbo credeva o lo interrogava con diffidenza. Che farà domani e dopo? E tutta la mia vita ad ora innanzi sarebbe forse piena di queste interrogazioni senza risposta. Come avevo potuto? Oh non ero stato un'eroina. Ero il povero essere dal quale una mano di chirurgo ne svelle un altro per evitare la morte di entrambi. Quanto durò l'orribile viaggio. Ad ogni stazione mi afferrava la smania di scendere di aspettare un treno che mi riportasse indietro. Poi quando la corsa riprendeva mi balenava a tratti l'idea del suicidio così facile lì a quello sportello istantaneo. Ma all'arrivo la stessa volontà quasi estranea superiore a me stessa mi si impose. Mi nello stesso tempo è passato. Un anno ormai. Non sono tornata laggiù. Non ho più riveduto mio figlio. Il presentimento oscuro non falliva. Per quanti mesi ho lottato conservando l'illusione di ottenere mio figlio. I primi giorni mi furono quasi un riposo sotto la vigilanza silenziosa e trepida di mia sorella. Poi le settimane si susseguirono in uno scambio sempre più violento di lettere tra me e mio marito, tra lui e mio padre e infine tra i nostri avvocati. In colui si palesava crescente la sorpresa per la mia resistenza. Si ludeva che avrei finito per tornare. Non aveva egli per ostaggio il figlio. E il bimbo per mezzo della domestica mi mandava dei bigliettini dove le sue dita incerte scrivevano parole d'amore e d'angoscia. Vorrei scappare mamma ma come fare? Qui mi dicono delle brutte cose di te. Io ti voglio tanto bene. Non ti dimenticherò neanche fra cent'anni ma tu che fai? Non puoi mandare a prendermi? Nella stanzetta che abitavo, provvisoriamente in casa di mia sorella, dove giungevano queste effusioni del piccolo cuore addolorato, le ore non si avvertivano più. La notte, figgendo il capo e le mani fra le coltri, soffocavo il rantolo selvaggio. Chiamavo il bambino per nome. Gli parlavo, gli parlavo. Poi balzando in piedi mi pareva di essere decisa a partire, a raggiungerlo. Che importava farmi avvilire, calpestare, contaminare, ma godere ancora della carezza, degli sguardi, degli abbracci palpitanti della mia creatura. Che cosa mi tratteneva con forza implacabile? Una voce dentro di me, quasi non mia, non del mio povero organismo sensibile, mi diceva che il passo da me fatto era irrevocabile e che io non potevo più mentire a me stessa. Che io sarei morta di onte e di disgusto se non sapevo resistere allo strazio, se non preferivo morire. Ho quel comando interiore, terribile. Per mesi, per mesi, ero disposta alla morte con la stessa consapevolezza di un malato inguaribile. Sempre più forte mi si insinuava la persuasione che non avrei ottenuto mai nulla da colui, che la sua vendetta sarebbe stata inesorabile. Dopo le minacce egli mi mandava ora parole beffarde, sapeva che io non potevo iniziare cause di separazione per mancanza di motivi legali. Mio padre, stanco, non interveniva più. Fin dal primo giorno del resto, egli mi aveva detto di non sperare. Mi pervenne il rifiuto dell'autorizzazione maritale per riscuotere l'eredità di mio zio. Infine, anche l'avvocato rinunziò ad ogni trattativa. Io restavo proprietà di quell'uomo. Dovevo stimarmi fortunata che egli non mi facesse ricondurre con la forza. questa era la legge. La domestica, la giuvene cacciata e così anche i bigliettini di mio figlio cessarono. Seppi che era stata presa una giovane istitutrice, le scrissi e non mi rispose. Nessuno poteva far nulla per me. Perché la morte tardava tanto? O io ero morta di già o non sopravviveva di me che un ricordo. Il tempo scorreva, fuggiva. Mio figlio non doveva essere già più quale l'avevo visto l'ultima sera. Aveva forse già altre inflessioni nella voce, altra luce nello sguardo. Ma non riuscivo a vederlo diverso. La mia maternità sarà dunque chiusa veramente con quell'ultimo bacio. Quando furono passati più mesi, io considerai con uno strano stupore che vivevo ancora che nulla di essenziale era veramente morto in me e che d'ogni intorno, quasi occultamente, mille enigmi mi sollecitavano. Uscendo per la città posavo gli occhi sui bimbi che potevano ricordare il caro mio lontano. Li tenevo fissi con insistenza e talora uno di essi mi ricambiava l'occhiata con un'ombra d'inquietudine. Nessuno di quei piccoli sorridenti aveva bisogno di me, ma qualche volta il mattino fra la nebbia o sull'imbrunire delle piccole forme vaghe mi rasentavano. Qualche voccetta lamentosa mi arrestava. Sotto la mia carezza la faccina tribolata aveva un guizzo di gioia. Dove dormivano? Dove vivevano? Traverso le preoccupazioni della mia nuova vita, il pensiero di quei bimbi, di quelle mamme vaganti per i soborghi, mi dava una sollecitudine tormentosa. Un mattino con mia sorella entrai in uno dei dispensari per i piccoli malati, poveri istituiti da un gruppo femminile. Mi offersi come assistente di turno due, tre volte e la settimana. Ma che sgomento le prime volte! Ignoranza, sudiciume, fame, percosse facevano di quella povera infanzia dei martiri tragici. Oh, il mio bambino sano e bello e credetti di non poter sopportare la sofferenza fisica di un tale spettacolo ripetentesi all'infinito. Fu da allora che ho ripreso risolutamente a vivere, dopo aver sentito di nuovo gli altri vivere e soffrire. E da allora ho anche avuto il bisogno di sperare di nuovo per tutti se non per me e quando ho ritrovato intatta nella mia sostanza, nonostante il tragico sforzo compiuto, la fiducia in un miglior avvenire umano. Oh, figlio mio, figlio mio, ho potuto ancora versare lacrime di conforto. E in una cameretta che affittai accanto ai miei cari, tra una corsa per le lezioni che sono il mio solo mezzo di sussistenza e una visita all'ospedale, mi sedevo al tavolino per scrivere delle pagine in cui rinnovavo gli appelli già lanciati alla società da ben altri ingegni. Ma che io improntavo di lacrime e di sangue, i miei gridi erano ben atroci, poiché le riviste che prima mi sollecitavano ora mi respingono. Ma la giustizia non può venire soffocata, perché arde. Io non domando fama, domando ascolto. Dalla finestra all'alba e al tramonto scorgo le linee delle Alpi sulle nubi rosate e spesso mi giunge la nenia di un corteo funebre avviato alla città dei morti, guardando in faccia la vita e la morte non le temo, forse le amo entrambe. In cielo e in terra un perenne passaggio e tutto si sovrappone, si confonde e una cosa sola su tutto splende, la pace mia interiore, la mia sensazione costante di essere nell'ordine, di potere in qualunque istante chiudere senza rimorso gli occhi per l'ultima volta. In pace con me stessa, spero qualcosa? No, forse domani può giungermi una nuova ragione di esistenza, posso conoscere altri aspetti della vita e provare l'impressione di una rinascita, di un sorriso nuovo su tutte le cose, ma non attendo nulla, domani potrei anche morire. E l'ultimo spasimo di questa mia vita sarà stato quello di scrivere queste pagine per lui, mio figlio, mio figlio e suo padre, forse lo crede felice e gli arricchisce e gli darà balocchi, libri, precettori, lo circonderà di agi e di mollezze, mio figlio mi dimenticherà e mi odierà, mi odi, ma non mi dimentichi e verrà educato al culto della legge, così utile a chi è potente, amerà l'autorità e la tranquillità e il benessere, quante volte afferro il suo ritratto in cui le fattezze infantili mi par che ora annunzino negli occhi il mio dolore, ora nell'arco delle labbra la durezza di suo padre, ma egli è mio, egli è mio, deve somigliarmi, strapparlo, stringerlo, chiuderlo in me e sparire io perché fosse tutto me. Un giorno avrà vent'anni, partirà allora l'avventura a cercar sua madre o avrà già un'altra immagine femminile in cuore, non sentirà allora che le mie braccia si tenderanno a lui nella lontananza e che lo chiamerò, lo chiamerò per nome o io forse non sarò più, non potrò più raccontargli la mia vita, la storia della mia anima e dirgli che l'ho atteso, l'ho atteso per tanto tempo ed è per questo che scrissi, le mie parole lo raggiungeranno. Fine